Gossip Uomini e Donne Gossip Uomini e Donne . Questa settimana all'interno dello studio di Uomini e Donne si è formata una nuova coppia. Parliamo di Nilufar e Giordano. Chi ha seguito le puntate del Trono Classico in onda su Canale 5 sa bene che Nilufar ha scelto di portare a termine il suo percorso all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi. Rivelando così il nome della persona con la quale intende costruire un percorso sentimentale. La scelta di Nilufar e Giordano . I due corteggiatori arrivati al duello finale erano Giordano e Nicolò, due ragazzi molto diversi, che tuttavia avevano regalato entrambi delle emozioni forti a Nilufar. La quale fino alla fine ha ammesso di essere stata in crisi circa la scelta da fare. Alla fine, però, il suo cuore l'ha portata da Giordano, Nilufar ha ammesso che sebbene Nicolò rappresenti il prototipo di uomo ideale. A quest'età non se la sente di immergersi in qualcosa che potrebbe essere più grande di lei e quindi per questo motivo ha puntato tutto su Giordano. I due, così, hanno abbandonato insieme lo studio di uomini e donne, pronti a vivere insieme questa favola d'amore lontane dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi. Ma cos'è successo dopo il fatidico sì finale? Quali sono le novità che riguardano la neocoppia formatasi questa settimana?. Le novità su Nilufar e Giordano dopo il sì a uomini e donne. Le ultimissime di gossip su uomini e donne tra Nilufar e Giordano dopo il sì finale arrivano da un'intervista dello stesso Giordano rilasciata in queste ore al magazzine della trasmissione di Maria De Filippi. . . Il ragazzo ammette di essere al settimo cielo e che per la prima volta nella sua vita sta provando delle emozioni e della sensazioni che non aveva mai provato prima per una ragazza. . . Forse mi sto innamorando sul serio, ha dichiarato Giordano, il quale poi ha promesso a Nilufar che da questo momento in poi non scapperà più di fronte ai problemi e farà di tutto per risolverli assieme. . In questa prima intervista post-scelta, inoltre, Giordano ha parlato anche di un imminente viaggio che farà con Nilufar nei prossimi giorni. . . Una notizia che ha rallegrato immediatamente i fan della coppia di uomini e donne. . I quali adesso attendono notizie circa la messa in onda in televisione. . Sebbene non si abbiano ancora notizie certe. . . Possiamo svelarvi che molto probabilmente il viaggio della coppia Nilufar Giordano verrà trasmesso nel corso dell'ultima settimana di programmazione del dating show. . . . . . Grazie a tutti.